Benvenuto a Michelangelo Messina in questo 4 giugno particolare, un giorno importante per il cinema, potremmo dire, non solo nazionale, è superato sicuramente i confini nazionali ma in particolare per l'isola di Procida e per tutti quelli che sono campani perché oggi ricorrono 30 anni dalla scomparsa dell'indimenticato Massimo Troisi. Massimo Troisi lo ricordiamo con te in maniera particolare e mi piaceva ricordarlo perché è stato l'unico che in maniera seria ha reso iconica Procida, è vero l'isola di Graziella, sono tante le immagini, ma il postino, il ricordo che noi abbiamo di quel film di Mario, della necessità di dover rubare i rumori del mare e poi di tutta la poesia dell'intero film, ovviamente ha portato Procida oltre i confini, non solo Procida, anche tre location perché poi non può tutto girare a Procida e poi questa è anche l'occasione, mi piace a me ricordando Massimo Troisi di ricordare un altro giovane procitano a cui il cuore è sempre abbastanza legato che Fabrizio Borgogna. Partiamo da Massimo Troisi che è stato poi quello che in qualche modo ha acceso questa fiammella del cineturismo perché poi noi l'abbiamo conosciuta forse dopo, però l'idea del cineturismo Procida e Massimo ovviamente è stata la cosa più, la miccia che poi ha spinto di più su questo argomento. Tu lo sai, io con Massimo Troisi sono particolarmente legato, anche se non l'ho conosciuto direttamente, l'ho conosciuto attraverso Terzi, l'ho visto comunque a teatro a Roma. Massimo Troisi ha fatto tante volte di imitazione, nel mio passato teatrale e caparettistico esiste anche uno spettacolo che si chiamava Spettando Troisi, se ricordo dove in piena bagaggia serale nei locali schitani praticamente da Tamatoa a Charlie all'epoca io irrompevo alle 11 di sera con questo spettacolo che aveva rettissimo nel discoteco, fortunatamente senza avere mai una sedia addosso o altra, insomma dove imitavo con lui. Massimo Troisi è un personaggio straordinario nella teatralità e nella cinematografia, non solo campana, nazionale e internazionale, perché lui fa un esperimento straordinario che è quello di rivalutare l'identità culturale di un territorio, perché i suoi predecessori, ti parlo a livello teatrale, perché lui nasce comunque come caparettista se ne voglio dire tutto questo aspetto, però i suoi predecessori teatrali, ti parlo di Viviata, ti parlo di Viguano, i due grandi capostipiti, non voglio parlare di Scarpetta perché Scarpetta aveva identificato il felice Ciorciamucca, diciamo la maschera di Buccinelli e la tira fuori. Però Viviani che cosa fa? Viviani non esce fuori dai confini campani, perché lui parlava in un vernacolo napoletano e pertanto era limitato a un'ondienza campana. E riguardo si inventa la doppia battuta, cioè lui scaltro com'era in quell'epoca per farsi capire dagli altri, oltre diciamo alla regione campania, inventa la doppia battuta, se ti ricordi bene con gente, zerre quella volta, vi ho detto il fiù di quella porta, proprio per farsi capire. Troisi invece rivendica una sua identità e riparla in napoletano con orgoglio, cioè dimostra che il napoletano non è solo una lingua locale, un vernacolo, ma è una lingua internazionale fatta di gesti, di mimi e di capacità e questo gli si deve tanto perché comunque ha riscattato un attimino un po' come il caccio, cioè dopo tanti anni una città che ha una sua cultura, una sua storicità, pertanto va apprezzata sotto questo aspetto. È stato un lungimirante, come dici tu, perché soprattutto sul fatto del cinema, no, perché lui ha fatto delle opere nazionali che sono straordinarie, ricordiamo di Benigni, tutte le opere che ha fatto, dove, diciamo un po' versione Eduarda, Eduardiano lui ha cercato di, come dire, con ironia di raccontare dei problemi sociali, non solo campani, ma anche voglio dire nazionali come lavoro, insomma la difficoltà di un regime in alcuni dei suoi film, ha trattato dei temi, fino al paradosso che il suo ultimo film lui dimostra anche di avere una visione internazionale, perché vi voglio ricordare che quel film, praticamente soprattutto degli spettatori, che di Postino, chiaramente fu candidato anche agli Oscar, se vi ricordate, soltanto insomma un po' con una venatura di sinistra, se noi regoliamo gli Oscar, insomma, sono in un'altra ottica e logica, però aveva tutte le caratteristiche per poter anche vincere un Oscar. E lì, chiaramente, non solo ha fatto un regalo a Procida, perché gli altri luoghi anche erano straordinarie dove abbiamo girato, ma ha innescato proprio quel sistema di raccontare il territorio. E grazie a quel film, passando che Procida ha una sua storicità cinematografica, che abbiamo sposato spesso insieme con Fabrizio Borgogna, su questo permettimi di spezzare una lancia, perché quando io ho lanciato il Cine Turismo, cioè questo fenomeno a livello europeo, che non era conosciuto, era conosciuto negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, in Inghilterra, i paesi anglosassoni ne facevano già grande uso, anche economicamente, di rientro. L'Italia, l'Europa non sapeva niente. Troisi è stata l'occasione, voglio dire, di capire veramente quanto un territorio può promuovere. Ancora oggi, se tu vai a Procida, tu trovi file di giapponesi, cioè, voglio dire, là dove è stato distribuito, perché poi, candidato agli Oscar, ha avuto un'esplosione di distribuzione worldwide, come si può dire. Insomma, quei luoghi raccolgono, voglio dire, quella grossa testimonianza di Troisi su quel territorio. Lui ha girato anche a Salina. E paradossalmente, io che sono stato l'inventore del Cine Turismo in Italia, in Europa, l'unica parte dove sono riuscito comunque a collocare all'Europa, adesso l'abbiamo fatto anche altrove, è stata Procida ai Pannelli. Cioè, con Procida noi abbiamo fatto uno dei primi esperimenti di totem illustrativi di un percorso cineturistico, che ancora oggi reggono. Poi sono stati realizzati anche in altre parti d'Italia, così come la APLA, la POEMAP, la Cine Turismo, grazie alla sensibilità di Fabrizio Barbonio, perché avevo provato in vano a Ischia, che ha una storicità molto più corposa di Procida degli altri isoli. e che non mi hanno mai richiesto di fare. Senti, il postino lo ricordiamo, almeno io in particolare, per tutta quella poesia che è scritta e che si legge nel sottotesto del film. Ma c'è qualche aneddoto in particolare, così lo facciamo per ricordare Massimo Troisi, che poi potremmo parlare di tantissimo di Massimo. Io in particolare, già mi ha dedicato un film, Betano, 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 vorrebbe essere un motivo, ma a prescindere da questa battuta. Il postino cosa ha significato da un punto di vista cinematografico per Procida e non solo? Allora, il postino a livello internazionale ha significato che comunque l'Italia era in grado di presentare dei film agli Oscar veramente competitivi. Ricordo che Troisi arriva agli Oscar, voglio dire, quando altri autori ci sono arrivati dopo, in selezione di Palazzo Valentino e degli altri successivi. Si scoppe l'incarcia di vostra donna. Si scoppe l'incarcia di un periodo che andava oltre 40 anni, voglio dire, prima di avere Troisi negli Stati Uniti, nella Mecca del Cilio. Tanto lì ha parlato con un linguaggio e ha dato una dimostrazione, come oggi lo stiamo facendo anche tutto in Campania, perché è una cucina artistica straordinaria con l'animazione. Procida ha significato tantissimo, perché a Procida gli ha dato quell'occasione di poter utilizzare quello strumento per farsi conoscere a livello mondiale. Io credo che seguito poi anche di una popolarità di Procida, non è che non ne aveva bisogno, però la cinematografia che c'era stata fino a quel momento era sfungente, cioè, voglio dire, era utilizzata parzialmente di Procida. Procida sta girando anche alcune sequenze, voglio dire, di Delitto Impero Sole con Alain Delon o del talento di Mister Libri, voglio dirti, successivamente o altro, ma non hanno avuto lo stesso impatto praticamente che ha avuto il Postino, perché lui l'ha caratterizzato proprio come isola perfetta che descrive Pablo Neruda. Se tu ci fai caso, il film è girato anche a Salina, cioè anche in altre parti, vengono fuori, ma non hanno lo stesso impatto, voglio dirti, che ha avuto la voce dall'isola del Postino, alla fine è diventata proprio per il bene di tutti. Questa era la parentesi attuale, perché l'abbiamo ricordato, ma il lavoro, i comunicati aumentano, le date si avvicinano, questa del Tuoi Schiaffi in Festival è l'edizione 2024 che risale al numero 22 di pazzo, quindi 22 edizioni per una fatica costante, a meno chi parla l'ha visto nascere da 22 anni, ma nel senso che 22 anni insieme a parlare di cine e turismo. Il Festival ha avuto diverse trasformazioni, quest'anno adesso tu ci racconterai le particolarità, però quest'anno a differenza degli altri anni c'è un pre-festival che parte tra poco nel Salone delle Antiche Terme Comunali, partiamo da qua per raccontare l'edizione 22 del Schiaffi in Festival. Sì, ci siamo innanzitutto trasformati a una semplice associazione in cui era l'idea di realizzare questo festival sostenuto da tanti collaboratori, ma soprattutto anche a livello familiare, si è trasformato in un ente del terzo settore, effettivamente a tutti gli effetti, perché comunque facciamo un discorso culturale che ha forcato i confini nazionali, che può giurirsi dall'esordio, insomma, si è delocalizzato. Avere 124 tesi di laurea sul fenomeno del cine e turismo da me portato all'attenzione nazionale e sull'ischiaffi in Festival, significa che non mi appartiene più a me, è qualcosa che comunque appartiene alla collettività italiana, se non vogliamo, con un respiro europeo e internazionale per le relazioni che vado a fare, soprattutto sul cine e turismo. Questa trasformazione ha comportato che chiaramente abbiamo chiesto l'aiuto anche di partner e di sponsor a livello nazionale, i quali sono i primi a credere in questa iniziativa. Ogni volta che vengono hanno sempre visto che comunque c'era una possibilità, voglio dire, che questo festival dovesse crescere ed emergere ancora di più, alti fuori di quello che fa per le bellezze dei mondi. Così abbiamo sposato l'idea di rafforzare, ma non per me, cioè voglio dire, abbiamo i collaboratori anche nuovi, cioè voglio dire, c'è una parte familiare che comunque continua a dare professionalmente il loro contributo dentro, ma abbiamo una struttura già totalmente diversa, di cui mi onoro di farne capo, comunque ne sono presidente, abbiamo come presidente onorario Gianni Canova, che è una delle massime espressioni come critici cinematografici italiani, che è il lettore della Iul di Milano, il quale, voglio dire, non è che si attacca a un festival così, anche lui ha visto questa determinata cosa. Perché un'edizione da pazzi? Un'edizione da pazzi perché innanzitutto abbiamo messo un programma, devo dire, molto forte e questo capita dalle annualità, ci sono degli anni in cui tu hai delle adesioni in meno, perché insomma dagli impegni che ci hanno quest'anno insomma siamo stati un po' fortunati, però abbiamo insomma un'edizione molto corposa di ospiti, anche di anteprime, anche perché abbiamo fatto una selezione naturale, da quest'anno noi siamo solo concorso, cioè non siamo più l'arena estiva dove proponiamo anche dei grandi blockbuster, cioè anche gli otto film che normalmente noi chiamavamo the best of the year, cioè il meglio dell'anno sono in competizione, non con le giurie, noi abbiamo tre giurie internazionali, per la giuria del pubblico, pertanto sono stati selezionati otto film che già sono usciti nelle sale cinematografiche che verranno però valutati dal pubblico. Questo significa che noi apriamo solo proiezioni che sono in concorso, praticamente, o con il pubblico o con le tre giurie o con le delle, fra l'altra, e delle critici cinematografiche, gli altri è fatta da attori e altro. Perché è nata l'esigenza anche di fare questa mostra pre-festival? È una mostra che vuole dare il giusto resoconto alla cittadinanza che ci ospita e anche ai turisti che arrivano di che cosa è stato realizzato in questi 22 anni, anche una forma di rispetto di coloro che ci sono stati vicino in questi due anni, perché a volte, sai, sembra che noi siamo arroccati su al castello, insomma, e facciamo quattro proiezioni e arrivano due ospiti. No, in realtà c'è un lavoro molto più corposo e mi sembrava doveroso dare la giusta dignità a chi ha collaborato per far capire quanto abbiamo realizzato in questi 22 anni. È chiaro che è anche un veicolo promozionato perché anticipa di una settimana il festival per i cristi che ci sono, ma soprattutto anche per gli isolani, insomma, giusto per capire questa invasione di campo che noi facciamo ogni anno tra gli schiavonti e il resto dell'istica. Senti, il trailer di quest'anno, qualche nome? Possiamo cominciare a spoilerarlo? Sì, diciamo, ufficialmente noi abbiamo una conferenza stampa il 14, che faremo da uno dei nostri partner storici, anche perché ci lega a un film oggi, insomma, soprattutto legato all'ecologia, che noi continuo a dirlo fortemente, noi siamo un festival molto ecologico in confronti degli altri per vari motivi, perché il pubblico può accedere solo a piedi, pertanto non c'è uso di macchine. Ci sono, diciamo, i parcheggi a monte che danno la possibilità di arrivare poi con delle navette e arrivare a schiavonti. Il pubblico deve salire per forza a piedi, solo al castello, pertanto non c'è altro uso. Le sale non sono sale, sono degli spazi all'aperto dove noi non usiamo condizionatori, per dire come le sale cinematografica, soprattutto d'estate. Pertanto non facciamo inquinamento sotto questo aspetto. Usiamo codici QR, praticamente per i programmi, e così c'è una diffusione, voglio dire, visuale sul telefonino e c'è meno spreco di carta. E quel poco di carta che facciamo, lo facciamo su carta riciclata, addossalmente ci costa di più, però lo affrontiamo. E gli stessi ospiti non arrivano con la macchina sotto al castello, bensì arrivano in barca, che c'è un minore consumo comunque di CO2 e tutti i resti. E da questo spunto, diciamo così, quest'anno tra le due novità, perché ce ne sono due, una praticamente apre Alessandro Rasmann, perché lui è molto sensibile al tema dell'ecologia. Lo ricordiamo testimonial dello spot della regione Campania. E tra l'altro scritto che era una visione. Pertanto noi apriamo proprio con lui su questa cosa. E facciamo la conferenza stampa alla Lidauro, che è il nostro storico partner sin dall'inizio, dall'esordio 2003, anche per collegare, voglio dire, anche le ultime attuazioni che loro hanno fatto con il Giovejet e tutti i resti. Pertanto cerchiamo di dare anche un messaggio di salvaguardia dell'ambiente, perché se questo festival nasce proprio per raccontare la diversificazione culturale del territorio attraverso il cinema, noi abbiamo una sezione che si chiama Location Negata, che racconta proprio quello. Noi non raccontiamo solo la bellezza, la capolino, la promozione del territorio, ma raccontiamo anche di territori che hanno perso la loro identità, che sono territori che hanno perso la loro identità, sia per categorismi naturali o per mano dell'uomo, per regime o altro, che vengono cancellate le loro identità. Questa è la prima novità. E l'altra novità è che accendiamo un focus sulla figura femminile nell'opera cinematografica quest'anno. Avremo la presenza di cinque donne, che fanno parte comunque del gruppo di ospiti che abbiamo, dove con loro accenderemo un focus sull'importanza della donna nella cultura in generale, soprattutto nell'opera cinematografica, partendo dal presupposto che noi siamo nella casa di Vittoria Colonna, che nel 1500 una ribelle che crea un cenacolo culturale dimostrando una hegemonia maschile, voglio dire, che la cultura era anche femminile sotto questo aspetto. Avremo la presenza di due premi Oscar, di un robe d'oro, di quattro Davide Dionatello, grazie al comune di Furio, al loro sostegno e alla loro volontà. Quest'anno iniziamo un dialogo con la Colombaria, voglio ringraziare personalmente il sindaco e la masterclass per l'impegno. Faremo cinque masterclass al mattino praticamente, dove porteremo nella villa dove è seppellito Luchino Visconti, cinque grandi personaggi passeranno per il festival, dove al mattino si faranno questo talk di cinema con degli studenti universitari selezionati della IUM di Milano, partendo da quest'anno ci auguriamo di avere anche altre università, dove c'è anche la possibilità di una quindicina di posti ancora liberi praticamente, dove tramite un accredito praticamente gratuito si possono assistere a queste belle novità. Pertanto veramente un'edizione da pazzi. Quindi magari in conclusione a questo punto vi ricordiamo pure come prendere tutte le informazioni, qual è il sito internet, le pagine facebook, i numeri telefono, il box office. e poi vi faremo un'edizione con gli allestimenti tra qualche settimana, dal 24 c'è già pronto l'info point giù a Ischia Ponte che fa anche da biglietteria SI AI, aprendo solo il pomeriggio dalle 5 fino alle 23, sia per dare informazioni sia per altre cose. Poi è disponibile il sito internet che è www.ischiapponfestival.it dove ci sarà anche la possibilità di fare un preacquisto dei biglietti anche online. Voglio ricordare che da noi non è che si accede comprando il biglietto per un singolo film, si accede comprando un biglietto per un'area dove in un'area è raccolto dalle 20 e 30 alle 24 praticamente una serie di eventi che sono un incontro con un autore o un corto, un lungo e un documentario per dire. Anche perché tutti i film che noi presentiamo sono sempre introdotti da un autore e da un critico cinematografico. Noi non facciamo questa eminenza che Gaetano ha preferito non il dibattito dopo ma l'introduzione perché a volte è difficile capire un film. Allora è bello che comunque ci siano proprio gli autori in prima fila che ti dicono il perché hanno scelto di fare questo mestiere o perché hanno deciso di realizzare quest'opera sia interpretandola sia realizzandola. Devo dire ha provato nel corso di questi anni insomma un attimo light motive per passare una meravigliosa serata sotto le stelle davanti a un grande scale. Perfetto, grazie e buona vita agli Schiaffin Festival. Grazie.